ok, torniamo a dire ma perché andati così? dobbiamo fare di serio no, voi dovete fare di serio c'è con un signore che è sotto lo schermo con gli occhiali e c'è con un signore e che mi riesce a darvi no, 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 no ok, c'è il sopravvimento da la conclusione il vantaggio è diminuto e 40 il gruppo Stagna è una grandissima andatura alla quale nel senso di defenza non c'è più accordo con la stabilità di questa situazione il resto del gruppo è il resto del gruppo è il resto del gruppo è il resto del gruppo Grazie a tutti. Grazie a tutti. La coordinatore da Peccana Vesame. La maglia rosa, il sogno di ogni corridore, il simbolo del primato della classifica generale a tempo. La peste oggi in questo santo. La servo AMI viene premiato in questi istanti dal geometra Claudio Succio, presidente del comitato organizzatore locale. Grazie.